Il premio ideato da Passione Biancoscudata nella persona di Corrado Fiolini, che ha incaricato appartenenza a Biancoscudata la consegna del premio. Il concorso ha visto vincitore Ronaldo con un testa a testa con Simone Della Latta ed un inserimento di Cosimo Chiricò nelle ultime partite, ma alla fine chi si è giudicato Biancoscudata d'oro è stato il nostro capitano, Ronaldo Pompeo da Silva. Un grazie a tutti i tifosi che hanno votato e ad arrivederci alla prossima edizione. Questo è il premio consenato dal vicepresidente di appartenenza. Abbiamo scoperto che è un nuovo sottolineo che è Pompeo, quindi Pompeo complimenti. Grazie. E speriamo che tu possa vincere anche il prossimo campionato. Lo cambierei valentieri con un qualcos'altro. E chiedono tutti noi, ma chiediamoci tutti e ci arriviamo all'obiettivo. Però comunque mi fa piacere ricevere questo premio. Come ha detto lei, anche altri avevano fatto tanto bene, no? Eh sì. Quindi vorrei condividere con i miei compagni questo premio. Benissimo. In bocca al lupo. In bocca al lupo e buon campionato. Grazie. Grazie. Sì, sì, benissimo. Benissimo. Sono in graniglia adesso. Bene. Bravo. Grazie. Prego. Grazie mille. Abbiamo salutato in lacrime. Adesso un po', almeno un'occasione per sorridere, dai. Sì, dai. Adesso ripartiamo, no? Quello che è successo lasciamo le spalle. Quelle cose che sono successe ci devono dare forza. Però adesso partiamo con tanto entusiasmo, con voglia di riprendere quello che abbiamo lasciato e dietro. Come stai? Hai fatto tante ore di volo. Sì, sono un po' stanco, però sono contento, dai, di essere qua. Avevo anche voglia di ricominciare, quindi la stanchezza non la sento tanto. Adesso andiamo a ritiro e ci prepareremo al meglio per ricominciare. I tifosi qua, subito, ti chiedono di rimanere. No, infatti adesso io sinceramente era a casa, ero un po' staccato da tutto, no? Era da tanto che non tornavo a casa. Sono arrivate delle voci, così, anche tramite dei amici, però per adesso siamo tutti tranquilli, sereni e vediamo cosa succederà. Adesso non sei contento di essere qui? Sì, quello sicuramente. L'ho detto a fine partita che avevo già voglia di ricominciare e adesso ce l'ho ancora di più, quindi penso che non ci saranno problemi. Sei l'intento quindi di essere rimasto, ma anche perché? Tu sei stato indicato come il capitano, come il paro, il paro vuole ripartire da dentro? No, ma guardi, se non ero contento non... Tu sei qui? E quindi c'è voglia di ricominciare, poi ci sarà tempo ancora per parlare di tante cose, no? Però l'importante è che adesso siamo tutti qua con la voglia giusta, con la determinazione di riprendere quello che abbiamo lasciato. Subito a correre con Mino, che ricordo che insomma siete stati due che l'anno scorso verso la fine, si abbracciavano sempre, no? No, sì. Siete ritrovati subito insieme a correre? Sì, subito, sì. Perché lui ha avuto un piccolo fastidio, quindi ha fatto una corsetta con me e mi ha fatto compagnia lei. Senti, il Frosinone è un'offerta che l'aveva fatta. Ieri mi hanno detto che il Frosinone è un'offerta che l'aveva fatta. Sarà così fino alla fine? Non lo so, magari tu sei più di me, non lo so. Però, sai, sono tanti, adesso in questo momento si parla tanto di tante cose, magari tante cose non sono neanche vere, quindi a certe cose non dobbiamo neanche dare tanto peso, quindi sono qua, sono concentrato per ricominciare nel modo giusto e niente, poi sai, magari entro la fine scriveremo ancora altre cose, però l'importante è quello che sappiamo noi, anche quello che sappiamo noi dentro la squadra, anche con i direttori, così col mister, quindi niente.